E' stata approvata dalla Giunta Comunale di Grottaglia la perizia di variante del progetto di Piazza Verdi per un importo complessivo di poco più di 25.000 euro, che trova la sua copertura all'interno delle somme a disposizione dell'ente già previste nel quadro economico. Questo sblocca dunque tutte le problematiche tecnico-amministrative legate ad imprevisti insorti durante l'esecuzione dei lavori, come quelli riguardanti la vetusta e la cattiva realizzazione di impianti idrici ed elettrici, superati anche gli ostacoli legati agli interventi fondamentali di ditte esterne, come l'installazione della colonnina di ricarica di veicoli elettrici ed anche dovuti ad errate segnalazioni del ritrovamento di reperti archeologici, con smentita poi della soprintendenza. In sostanza, con la perizia sono state adottate le offerte migliorative presentate dalla ditta esecutrice dei lavori in sede di gara. Tra queste è la posa in opera della pavimentazione fotocatalitica e drenante, che grazie alle sue caratteristiche cattura e riduce i principali inquinanti atmosferici, accrescendo il comfort climatico di tutta la piazza. Le opere in più riguarderanno la realizzazione di elementi già in progetto, ma la cui realizzazione era prevista poi in una fase successiva data la ristrettezza delle economie. Sarà realizzata la nuova fontana che riporterà, tra gli elementi, parte delle maioliche recuperate. Sarà incrementato il numero delle sedute e in questa fase sono state ridefinite le specie arbore di nuova piantumazione, per tipologia, numero e posizione. Al centro della piazza poi ci sarà un grande carrubo per generare un comfort ad uno spazio che ora è totalmente assolato e quindi durante le ore di urne non frequentabile. La ditta ha firmato dunque i documenti della ripresa totale dei lavori e da questo momento a 50 giorni di tempo per l'ultimazione delle opere residue previste nel progetto e di quelle aggiunte nella variante. Pertanto la data fissata per la fine dei lavori è l'8 settembre. Per l'assessore al ramo Giovanni Blasi un grande sforzo di tutti, amministrazioni, imparista, per riconsegnare alla città un importante spazio ricordando che si sta operando su una superficie di circa 8.000 metri quadri con un importo lavori complessivo di circa 140.000 euro.